Il progetto Inside Osman Noro, finanziato dalla regione toscana per aumentare sicurezza e integrazione nella zona dell'Osman Noro, periferia nord di Firenze, ha compiuto un anno. I risultati dell'iniziativa, promossa con i comuni di Sesto Fiorentino, Firenze, Campi Bisenzio, Ecolasla e Toscana Centro, sono stati presentati in un incontro a cui hanno partecipato le istituzioni locali e il console cinese a Firenze, Wang Fuguo. Il 96% degli accessi allo sportello Inside Osman Noro, infatti, sono stati di utenti cinesi, per lo più imprenditori, per avere informazioni su certificati, documenti, ricongiungimento familiare, pratiche e norme della pubblica amministrazione. Attraverso azioni come quella realizzata in questo progetto, che è fondamentalmente un'attività di sportello realizzata a favore degli imprenditori dell'area, in particolare degli imprenditori stranieri, che sono numerosi in quest'area, si realizzano attività quali integrazione e inclusione, che aiutano, supportano sicuramente il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza. Allo sportello Inside Osman Noro rispondono operatori formati alla mediazione culturale e linguistica. Nel corso dell'incontro sono state affrontate anche le prospettive future del progetto, che ora prosegue.